Vai! Attualmente il dottor Buffo è candidato al Consiglio Comunale di Massa per la lista civica Benedetti Sindaco. Il dottor Buffo è attualmente assessore alla caccia, pesca e ricoltura e ai rapporti con gli enti istituzionali del piccolo comune di Vergeamoni in Garfagnana e dal 2002 al 2007 è stato consigliere comunale all'Erici. Ascoltiamolo, dottor Buffo. Sì, hai toccato proprio un argomento di attualità perché comunque il comprensorio massese è sempre all'attenzione discreta della criminalità organizzata. Quando sono stato sostituto procuratore qui a Massa dal 1995 al 2003 mi sono occupato di infiltrazioni di tipo mafioso sul nostro territorio, sia attraverso proprio un'installazione di un gruppo di contrabbandieri che aveva acquistato quella famosa villa di Nazzano in cui si annidavano delle cellule molto importanti di contrabbandieri e di camorristi napoletani, sia attraverso l'infiltrazione in quel cantiere gestito da Giancarlo Corbelli che costruiva questi scafi superveloci che venivano utilizzati dai contrabbandieri di sigarette nel canale di Otranto per trasportare le sigarette dall'Albania all'Italia. Per cui bisogna sempre stare con l'attenzione molto alta perché questo territorio è molto ambito dalle organizzazioni criminali mafiose, camorriste e di stampo organizzato, perché è posto anche in una posizione strategica tra i traffici illeciti che vengono svolti nel sud Italia e le casse forti che si trovano in Svizzera, in Austria, nel nord Europa. Per cui io credo che l'attenzione su questo tema debba sempre rimanere al massimo del livello. Il mio impegno in politica cerca appunto di portare questa professionalità acquisita in questi anni anche nell'ambito dell'amministrazione. Credo che si possa fare molto anche nell'ambito del fare, del fare amministrativo, del fare sul territorio, al di là di tanti proclami o cose che vengono dette e poi lasciate lì. Dal punto di vista pratico e amministrativo si può fare molto come comune, come assessore, come sindaco, ad esempio avendo un ruolo centrale e permanente all'interno del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che è costituita a livello provinciale. Dove molto spesso il sindaco del comune, in genere il comune di Massa, ma potrebbe essere anche di Carrara, viene invitato soltanto sporadicamente quando ci sono problemi particolari. Invece noi come lista, come programma amministrativo vogliamo creare la figura dell'assessore alla sicurezza che permanentemente è in contatto e sta dentro questo comitato per essere sempre in collegamento con le forze dell'ordine, perché nel comitato ci sono i comandanti di tutte e tre le forze dell'ordine, con il prefetto che è il rappresentante del governo sul territorio. Non con una presenza sporadica ma come voce del territorio in questo comitato, sia per portare le istanze del territorio, sia anche per essere una voce continua e permanente quando il prefetto, il comandante dei carabinieri si sposta, viene trasferito, se ne va, sta solo un paio d'anni, il sindaco, il suo assessore alla sicurezza può permanentemente fare come dire la voce permanente del territorio e una sorta di memoria storica di tutti i problemi della zona. Dunque è un grande impegno. Io penso che di cose da fare su questo territorio ce ne siano, cominciare ad esempio da una migliore organizzazione della Polizia Municipale. L'assessore alla Polizia Municipale non vuole essere un doppione del comandante, anzi vuole agire in sintonia con il comandante della Polizia Municipale. Però credo che una professionalità come la mia possa essere utile per dare quel contributo di fattività all'azione della Polizia Municipale. Ad esempio, soprattutto adesso il vero fenomeno da contrastare sono il gioco d'azzardo. Comunque le slot machine che spesso adesso vengono ad essere taroccate, come dire, manipolate dalla criminalità organizzata e diventano veramente una fonte di finanziamento illecito per le organizzazioni criminali. Ecco, se il vigile urbano che nel suo perlustrare il territorio non si limita solo a attività di tipo amministrativo ma con una preparazione anche attraverso corsi fatti dalla Polizia Postale o comunque anche da esperti riesce a individuare macchinette, mangiasoldi, slot machine che sono manipolate e ecco, in questo modo si eviterebbe innanzitutto, visto che il gioco è comunque riconosciuto i monopoli di Stato lo riconoscono, di truffare i malcapitati che giocano a queste slot. Ma poi sicuramente quello è un terminale da cui risalire per arrivare alle organizzazioni criminali. Auguri, dottore. La ringrazio. Sei minuti e... Giusto.